Il 27 settembre del 2012 il Consiglio Comunale di Agropoli deliberò la richiesta al Vescovo di Vallo della Lucania di riprendere e condurre a termine con sollecitudine il processo canonico per dichiarare l'eroicità delle virtù di padre Giacomo Selvi e invitare il postulatore della causa ad adoperarsi perché venissero poste in atto tutte le opportune procedure. Ad oggi però nessuna notizia in merito a quella iniziativa. Il 27 settembre prossimo si commemora il 33esimo anniversario della morte di padre Giacomo Selvi, apostolo del Vangelo in terra di Agropoli. Padre Giacomo, fedele al carisma francescano, con il consenso del suo ministero provinciale in pieno accordo con il Vescovo di Vallo della Lucania e con i sacerdoti locali, svolse un'intensa e generosa opera di evangelizzazione e di educazione cristiana in favore di larga parte della popolazione agropolese, soprattutto di quella che viveva in zone lontane dai centri parrocchiali. Padre Giacomo rivolse le sue attenzioni a tutte le categorie, ragazzi, giovani, famiglie, poveri. I cittadini di Agropoli ricordano ancora il monacone, così familiarmente lo chiamavano, che percorreva a piedi, in bicicletta, con l'autostop, le vie della città e dei luoghi vicini per raggiungere quanti avevano bisogno della parola di Dio. Per far giungere a tutti la voce della Chiesa si adoperò per attivare una radio locale che animava con i suoi interventi, visse poverosamente e dava a tutti quanto la provvidenza faceva passare per le sue mani. Mentre cresceva la comunità di fede raccolta intorno a lui si avvertì il bisogno di una struttura pastorale per una degna celebrazione delle azioni liturgiche e per lo svolgimento delle varie attività formative e padre Giacomo si adoperò per realizzare questo progetto raccogliendo giorno per giorno le offerte necessarie. Così diede inizio alla costruzione dell'attuale Chiesa del Sacro Cuore e degli annessi locali. La memoria di un sacerdote che ha incarnato i valori del Vangelo non può andare perduta, ma deve essere tenuta viva attraverso la proposta esemplare della sua testimonianza. Auspichiamo un'azione decisiva del Consiglio Comunale di Agropoli adoperandosi affinché i risultati siano concreti.